Grazie per la visualizzazione di questo filmato. Questo è il mio brevetto, si chiama Vene. Si fa con una massa di carte regolari, non solo carte regolari, voi lo sapete. Le carte vanno mescolate. Nessuno deve fare, questo è ovvio. Si chiude una carta a caso. Si chiude tutto. La carta sarà dentro qualche parte del mazzo. Posso prevedere che anche divido il mazzo e far vedere che sono tutti il suo verso. Che cosa avviene? Grazie.